Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questi minuti in Toscana. In A1 rallentamenti verso sud tra Sassomarconi e B1 variante per traffico intenso. Regolarizzato al momento il traffico sulla Firenze Mare. Infipili restano con i attratti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Ricordiamo che è in vigore l'obbligo di dotazioni invernali sulle strade di gran parte della Toscana l'elenco completo delle tratte interessate sui nostri canali social. Insieme al traffico ferroviario permangono disagi e variazione alla circolazione per la presenza di persone non autorizzate lungo la sede ferroviaria all'altezza di Firenze e Santa Maria Novella. Tutti i dettagli nelle prossime edizioni. Prima di salutarci per il trasporto pubblico locale Autolinea Toscana informa che lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per oggi, lunedì 27 novembre, è stato posticipato. È però confermato lo sciopero regionale dei Cobas lavoro privato dalle 17.30 alle 21.30. La regolarità delle corse dipenderà dal grado di adesione allo sciopero. Aversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.